Adoro Arena Sabalenka. Si capisce esattamente cosa prova mentre è sul campo. È esplosiva. È pura energia. È incredibilmente atletica e ha molta energia. Game Sabalenka. È divertente andare sulle montagne russe con Arena. È sicuramente estroversa. L'ho affrontata solo una volta, ma è una di quelli avversari e di cui ti preoccupi sempre. È molto forte e colpisce la palla con potenza. Sabalenka cerca la sua prima finale Major. Arena è una tennista incredibile, con un grande talento. Segni di frustrazione da parte di Arena Sabalenka. Ma è anche incostante. Non sempre riesce a gestire le emozioni in campo. Per tre volte è arrivata alle semifinali di un Major. Ma qualcosa è andato storto. Questa stagione voglio essere una persona e una tennista diversa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.